I contenuti di questo materiale di attività da terze parti e non da TICMIL danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento, chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza gli autori a TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. L'opinione espressa dei relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi e a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo team con i CFD rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Euro LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD se puoi sostenere il elevato rischio di perdere denaro. Allora questa sera parleremo di un innovativo modello di money management con Massimo Mondò. Io sono Giuseppe Cirico, la country manager Italia di TICMIL. Qui vedete anche la mia email per eventuali contatti come vedete anche quella di Massimo. Allora prima di entrare nel vivo come sempre, i primi cinque minuti sono dedicati a TICMIL sponsor di questo webinar. TICMIL è un broker non di Lindesk. Cosa significa non di Lindesk? Che il 100% delle posizioni vengono inviate ai nostri liquidity provider senza alcun intervento da parte del broker. La regolamentazione è tra le più forti stringenti in Europa con la FCA UK con fondi segregati separati dalla società assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,1 secondo garantita da oltre 10 server sparsi per il logo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato e vedremo questo aspetto come sia molto importante per questo tipo di gestione con il masaniello. Non ci sono re-quote e nessuna limitazione sulle strategie utilizzate. Potete utilizzare quelle che ritenete più opportuno come scalping, arbitrario e chi più ne ha ne metta. Non ci sono costi né su depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è un po' la mappa con i server di TICMIL e più importanti Londra, Nord Virginia e Tokyo. Altro fattore importante come dicevamo gli spread delle commissioni per la gestione con il masaniello. Potete in qualsiasi momento comparare l'offerta di spread e commissioni di TICMIL con gli altri broker a livello globale del sito esterno di MyFXbook. Noterete come quasi sempre la tabella relativa agli spread di TICMIL si è illuminata sempre di verde. Questo significa che gli spread comprensivi delle commissioni sono tra le più basse. Tenete conto che questa tabella che vi fa vedere MyFXbook è relativa al conto PRO, che è il conto standard più usato dai trader che è già tra i più competitivi nel mercato. Con il conto VIP tenete conto che le commissioni sono la metà rispetto al conto PRO. Quindi diciamo che tra spread e commissioni siamo ancora molto più bassi rispetto a quello che vedete e leggete qui in tabella. Grazie a queste condizioni TICMIL per diversi anni è stata premiata come broker per migliore esecuzione sia nel 2018, questo signore che vedete qui stringere il premio, è l'amministratore delegato Duncan Anderson, e anche nel 2019 come migliore piattaforma e nel 2020 come migliore esperienza di trading. Poi queste un po' sono le metriche di crescita nonostante Ace, ma da parte del broker, proprio perché TICMIL opera a livello globale, quindi non soltanto in Italia. Allora io ho terminato la presentazione, vedo che adesso siamo aumentati notevolmente di numero e ti cedo lo schermo Massimo, quindi aspetta che ti do, ti assegno come relatore. Riesci a sentirmi bene? L'audio è buono? Sì, ti sentiamo bene. Allora io rispondo un po' alla domanda sulla registrazione, sì verrà inviata a tutti gli iscritti, quindi via email e poi sarà disponibile nel canale. Diciamolo subito, registrazione, slide, foglie Excel, tutto quello che serve e che vedremo sarà inviato successivamente. Si vede il mio schermo? Sì, vediamo. Il massaniero nel trading come money management. Allora, innanzitutto grazie Giuseppe, grazie di questa opportunità. Per me è veramente un onore essere qui stasera, tra l'altro con TICMIL che appunto è un broker molto affidabile e lo dicono anche terze parti, quindi voglio dire non è solo la classica pubblicità che viene fatta dal responsabile italiano, ma anche a livello internazionale si vede che insomma è uno dei broker principali nel settore. Ringrazio te, ringrazio un carissimo amico che in questo momento sono sicuro non è presente al webinar perché è iniziata la Premier League e mi riferisco al carissimo Renato Di Carolis che saluto con piacere perché sta seguendo il suo Aston Villa, lui è pazzo spiegatato dell'Aston Villa, per cui faremo, diciamo, senza di lui poi mi ha promesso che rivedrà la registrazione. Allora, innanzitutto Masaniello, velocemente tanti mi chiedono perché Masaniello. Masaniello in realtà è un po' una duplice coincidenza e nella vita poi spesso le coincidenze ti fanno un po' così prendere delle decisioni. In realtà quando è nato nel 2002 questo modello di money management che in realtà non è nato come modello di money management ma era nato come metodo nel betting, nel settore del betting, nel settore da cui provengo, diciamo, con maggiore esperienza e avevo ideato questa tecnica di calcolo che di fatto per implementarla in maniera più complessa mi sono avvalso di una collaborazione di un ragazzo che in quel momento mi ha chiamato Ciro, detto Masaniello e Masaniello è un eroe napoletano della rivolta del 1647 contro la pressione fiscale per cui del governo spagnolo. Quindi praticamente ci sono una serie di combinazioni che poi mi fecero decidere per questo nome o meglio soprannome a Napoli Masaniello tipicamente è un rivoluzionario quindi voleva essere qualcosa di innovativo, almeno nell'ambito del betting. Solo successivamente si sono poi aperte le porte da quando io mi sono avvicinato nel mondo del trading da circa tre anni alle possibili applicazioni appunto nel mondo del trading. Oggi è un primo appuntamento che sicuramente mi permetterà di presentare le teorie di base ed alcune applicazioni pratiche. Vedremo poi se sarà possibile magari anche rivedere successivamente altre puntate un po' più specifiche. Money management in realtà è un termine inglese che da altri amici non è mia. Questa frase è stata tradotta come strategia monetaria. Mi piace molto citarla perché in effetti è proprio così. È un insieme di regole replicabili e ben chiare, ben definite per una gestione efficiente di un patrimonio. Questa definizione fondamentalmente racchiude un po' tutto ciò che c'è all'interno del money management. In realtà il masaniello riguarda solo una delle due parti, delle due facce di questa medaglia perché come sappiamo il risk management che sono un po' tutte le regole per la definizione dell'entry point, dello stop loss, del take profit e tutto ciò che riguarda trailing e quant'altro fanno parte del risk management ovvero valutazione indicatori, statistiche, tutto ciò che possono essere diciamo le regole di ingresso e di uscita o in profit o in stop loss quindi del sottostante. Il masanello invece riguarda proprio la seconda parte ovvero il calcolo del position sizing che poi riguarda proprio il quanto rischiare all'interno di un trade. Come vediamo anche da una slide tratta da il principale autore e referente in Italia, tra l'altro quattro volte campione del mondo Andrea Unger, applicare il money management vuol dire proprio calcolare quanto rischiare per ogni posizione. Quindi questo calcolo che è un argomento forse un po' noioso per alcuni trader che preferiscono più la prima parte, più la parte del risk management, quindi vedere come entrare, dove entrare, i minimi, i minimi, i massimi, cercare delle strategie sempre vincenti. Diciamo è una parte però altrettanto importante perché come vedremo poi nella seconda parte della presentazione il money management può essere anche parte integrante della strategia di trading. Per fare questo spesso quando si fanno delle simulazioni di gestione monetaria, quindi di position sizing o di rischio, si fanno delle simulazioni. Quindi chiaramente anche io partirò da questo esempio per presentare poi, per introdurre il masaniello e il suo calcolo che è stato diciamo sviluppato nel 2002. In realtà si simula il lancio di una moneta che rappresenta di fatto la possibilità di un trade, di essere vincente o perdente. Ovviamente in un gioco, lasciatemi il termine gioco equo, poi vedremo anche perché gioco, perché la teoria dei giochi che c'è dietro è molto interessante. In un gioco equo chiaramente ci si aspetta di vincere un valore 1 rispetto a un rischio 1. Quindi se io per esempio rischio una moneta, al verificarsi del mio evento ricevo in cambio una minorità invincita. Per cui anche nelle simulazioni si fanno valutazioni di questo tipo, dove si procede per tentativi o anche per analisi quantitativa. Per esempio la Monte Carlo è una delle tecniche di simulazioni ampiamente utilizzate in questo mondo. Però fondamentalmente è importante capire che quando si fanno queste simulazioni, il lancio di una moneta, la probabilità è esattamente quantificabile. Cioè in matematica è ben chiara e ben definita. Per esempio dopo un lancio noi abbiamo esattamente il 50% di possibilità di perdere una moneta, quindi andare a meno 1 o di vincerne 1. Dopo due lanci avremo il 25% di probabilità di perderne 2, il 25% di guadagnarne 2 e il 50% di ritornare a 0. Per cui praticamente procedendo per simulazioni sequenziali, dopo tre lanci le probabilità cambiano e dopo un certo numero di lanci si crea quella che di fatto è una distribuzione gaussiana. della equity, cioè fondamentalmente il mio risultato finale, quello che è il valore che voi vedete sull'asse delle ascisse, è il cosiddetto funzione di payoff, cioè quanto ricavo dalla simulazione come valore atteso, quindi il famoso valore atteso in matematica. chiaramente il valore atteso più probabile in un gioco equo è esattamente 0, per cui su un grande numero di tentativi alla fine il valore più probabile è esattamente l'equità, quindi lo 0, il nulla di fatto, quindi senza vincita, senza perdita. Ovviamente in un gioco non equo avremo uno sbilanciamento, detto anche drift in inglese, che va verso una direzione, tipicamente nel trading, ma così come in tutti i giochi che matematicamente vengono definiti tali, e poi vedremo anche da chi, c'è tipicamente uno sbilanciamento verso la parte negativa, perché ci sono dei costi, così come nel casino, per esempio nel classico esempio della roulette, così come per esempio nel gioco dell'otto, nelle scommesse, anche nel trading ovviamente ci sono degli sbilanciamenti negativi, che di fatto rendono anche, tra virgolette, difficile anche da superare, perché già bisogna superare questi costi, che sono magari bassi, e abbiamo visto nella tua presentazione anche il fatto di avere degli spread molto molto bassi, che sono prevalentemente i costi sostenuti dai trader, per entrare in posizione, chiaramente però bisogna tenere conto, e come dico sempre, la valutazione dello spread è molto importante, soprattutto sul modello operativo, perché pagare per esempio un pip, o anche meno di un pip di spread, su un'operatività che punta a un guadagno di 10 pip, è quasi il 10% a livello monetario, viceversa su 100 magari può essere trascurabile, per cui bisogna tener conto assolutamente anche di questo drift, cioè di questa differenza, che statisticamente è a svantaggio del trader. Però questo per dire cosa, che la distribuzione gaussiana poi va bene, dopo un certo numero ampio, un numero molto elevato di lanci, vedrete che sostanzialmente il valore di payoff, quindi di valore atteso, si viene racchiuso tra il più o meno radice di tentativi, di numero di lanci, per cui in questo esempio dopo 100 lanci, la maggior parte delle equiti finiranno tra il meno 10 e il più 10, e questo è statisticamente provato, diciamo, e verificabile. Per presentare la tecnica di calcolo, che viene fuori dal Masaniello, mi avvalgo di due film, tra cui il primo immagino sia facilmente identificabile, Beautiful Mind, che è un film bellissimo, e parla di una persona che ha rivoluzionato un po' l'economia, pur non volendo, perché di fatto lui è un matematico, però solo successivamente nel 1994, con i suoi studi in matematica sulla teoria dei giochi, ha ricevuto anche il premio Nobel per l'economia, e vedremo come questa teoria, la teoria dei giochi, risulta valida, interessante, proprio per presentare il calcolo che c'è dietro, l'algoritmo di calcolo che c'è dietro al Masaniello. Quando noi rappresentiamo una equiti, parlando di money management, chiaramente guarderemo una equiti, che può crescere o decrescere, a seconda del fatto che i trade siano vincenti o perdenti, di fatto noi avremo una sequenza di punti, partendo dal nostro primo trade, chiaramente qui si vedono come per esempio due i trade vincenti e un certo numero di trade perdenti, per cui avremo dei nodi che rappresentano proprio dei veri punti in cui si possono prendere delle decisioni. Tipicamente in una presentazione ad albero come questa, quella che tipicamente è la classica strategia di rischio, ovvero con un rischio fisso costante, nell'esempio della simulazione che abbiamo fatto, appunto si procede con rischio 1, guadagno 1, avremo una equiti che può assumere un certo numero di percorsi, ma quanti percorsi? Dopo 30 trade, il numero di percorsi possibili dalla equiti è rappresentato da questa equazione, cioè 2 elevato alla n, diverse, quindi equiti diverse, ovvero da tutti i trade vinti a tutti i trade persi, quindi passando ovviamente per tutte le possibili combinazioni, 5 vinti, 20 persi, 25 persi, e via via, ci c'è un certo numero di combinazioni relative alla distribuzione poi gaussiana della equiti. Questo per dire che cosa? Per dire che di fatto, quando noi facciamo un calcolo di rischio per la gestione del trade successivo, è importante porsi anche delle domande, quale sarà il mio risultato, per esempio il mio payoff dopo 10 trade, magari con il 60% di trade, quindi 6 trade vinti e 4 persi, e quale sarà magari il mio risultato dopo 100 trade con il 50% solo di trade vincenti? Queste domande sono delle domande importanti che bisogna porsi, perché non per parlare di martingale, anti-martingala, ma magari potremmo aprire un altro capitolo, do quasi per scontato che i concetti basici, e magari Giuseppe puoi aiutarmi tu se ci sono delle domande a tal riguardo, siano abbastanza chiari, però per esempio, proprio nel secondo esempio, dopo 100 trade, se un trader neofita inizia e applica per esempio il calcolo o il modello di anti-martingala, sappiamo bene che con l'anti-martingala se non si ha un vantaggio statistico o un vantaggio dettato dal rapporto rischio-rendimento, è difficile andare in profitto con solo il 50% di trade vincenti con rischio-rendimento 1 a 1, per cui è facilmente verificabile anche con un foglio Excel che addirittura si perdono a denaro con il modello di anti-martingala. Questo discorso qui è molto importante perché soprattutto per i neofiti che iniziano non hanno ancora ben chiaro magari un loro modello operativo, non hanno ben chiaro quello che può essere anche una loro capacità di trader, quindi una loro abilità di trader in termini di strategia, se ne hanno una, perché magari il trader neofita inizia ancora deve formarsi e già la prima cosa che fa entra al mercato, per cui una delle prime domande che bisogna porsi è proprio quale sarà il mio risultato dopo un certo numero di trade e dopo un'ipotesi di vincere per esempio il 50% di questi trade. A queste domande è un po' la risposta che vedremo successivamente. Per farlo e soprattutto per presentarlo in maniera ufficiale mi avvarrò del secondo film che è un po' Il ritorno al futuro, che tutti quanti ti avranno identificato dalla macchina del tempo. Perché? Perché nella macchina del tempo c'è una scatoletta, questo box che praticamente ti permette di andare nel futuro, di schiacciare un attimo quattro tassi e tornare indietro magari con un'informazione importante. Per cui ipotizziamo in una simulazione, ripeto, stiamo sempre parlando di simulazioni, di poter andare nel futuro che è un po' quello che fanno un po' tutti gli algoritmici, tutti coloro che fanno backtest, che dicono che solo analizzare il passato ti dà delle garanzie o meglio, dicono che in realtà analizzare il passato ti permette di partire con un vantaggio statistico. Questo vedremo che poi in realtà è vero in parte, non sempre, perché spesso si confonde quello che è il concetto di frequenza con il concetto di probabilità. Il concetto di frequenza e il concetto di probabilità sono due aspetti molto vicini, molto prossimi, però solo per un numero molto alto di tentativi. Quindi voglio dire, bisogna ben pesare quando si fanno analisi in backtest i dati storici e soprattutto il numero di occorrenze o di eventi che vengono valutati, perché spesso si fanno dei backtest si dice ok, ha funzionato cento volte, allora vado a mercato perché ho la probabilità o il vantaggio statistico. Non è sempre vero. Per cui massima attenzione soprattutto al concetto di probabilità e di frequenza. Ipotizziamo appunto di poter viaggiare nel futuro e di tornare indietro e di avere un'informazione importante, dire ok, ho la mia percent win, so che nei prossimi due trade commetterò un errore, però uno dei due trade sarà vincenti, che è un esempio un po' classico, 50% un po' come tirare una monetina, 50% di possibilità, un trade vinto, un trade perso. La domanda è come si può massimizzare questa informazione? Come si può ottimizzare il calcolo del rischio avendo per scontata questa informazione ovviamente valida? E' facile verificare che il calcolo da cui poi ne deriva l'algoritmo del Masaniello ti dice di rischiare esattamente un terzo del valore messo diciamo in gioco sulla sulla strategia nel suo complesso. Infatti se il primo trade risulta vincente hai portato a casa un 33% di guadagno nel caso fosse perdente il primo nel secondo ovviamente dando per scontato che l'informazione che proviene dal futuro è corretta nel secondo si mette in rischio esattamente l'altri due terzi del rischio massimo messo a disposizione e raddoppiandoli ovviamente si porta a casa sempre il 33% ma potrei andare avanti anche con altri esempi per esempio se io avessi un'informazione legata per esempio al numero di trade vinti su un certo numero totale di tentativi questa informazione sono informazioni che poi spesso si prendono proprio dall'analisi storiche dall'analisi di backtest e soprattutto magari dai propri ideali di trading e quindi dalle proprie abilità dalle proprie capacità di trader anche indiscrezionale e possono ritornare utili proprio perché in matematica si sa bene che un errore può essere corretto per cui il Masaniello esegue esattamente questo tipo di calcolo il Masaniello esegue un algoritmo praticamente sviluppa un sistema lineare di equazioni per dirla in maniera un po' forte forse ma probabilmente il pubblico che ci ascolta sarà sicuramente avvezzo diciamo questo di terminologia un sistema lineare di equazioni con un numero molto alto di equazioni perché immaginate per esempio su 20 trade il numero di equazioni è estremamente alto oltre il milione per cui il Masaniello è un algoritmo di calcolo che massimizza l'informazione del numero di trade attesi vincenti è evidente che ci sono dei vantaggi da questa informazione e ci saranno anche degli svantaggi che vediamo successivamente non è tutto orocolato ovviamente bisogna prestare massima attenzione i quattro parametri che il Masaniello richiede li vediamo qui sulla sinistra ovviamente si può definire quello che è l'importo di rischio massimo ho anche chiamato nel trading max drawdown quindi è il massimo valore di perdita che si può permettere di assumere a mercato in un certo numero di trade in questo caso su 20 trade chiaramente nell'esempio che si vede con questo foglio Excel che è proprio il foglio nativo del 2002 si vede un esempio con 20 trade e chiaramente l'importo di rischio massimo è chiaramente definibile quindi io so perfettamente quanto posso rischiare al massimo con un modello praticamente una strategia monetaria che prevede 20 trade ovviamente il 20 trade il numero totale di trade è un qualcosa che io posso definire nel foglio Excel arriva fino a 20 ma ci sono dei software e ci sono anche in atto diciamo degli sviluppatori su metatrader e anche con lo stesso Giuseppe avremo modo probabilmente di tirar fuori anche un expert un piccolo sistema che possa funzionare direttamente sulle piattaforme per cui il numero di totale di trade in realtà nel foglio originario arrivava fino a 20 ma possiamo tranquillamente anche andare oltre arrivare anche a gestioni per esempio di un numero direi illimitato di trade ovviamente l'informazione che proviene dalla nostra strategia dal nostro backtest è il rapporto di 3 divinti e 3 persi quindi qual è la mia aspettativa di vincita la mia aspettativa che ovviamente sarà un parametro fondamentale da dare alla strategia e come vedete qui nell'esempio per esempio su 20 trade io ho impostato un minimo di 10 trade attesi e ovviamente non ultimo il rapporto di rischio rendimento della strategia per cui questo modello lo dico subito perché è abbastanza chiaro lavora tipicamente con strategie che hanno rapporto rischio rendimento prefissati d'altronde nel trading è una delle principali regole quella di avere stop loss ben chiaro quindi avere magari anche un take profit identificato e fa parte del risk management io ovviamente non entrerò in quel tipo di disanima diciamo perché è una materia diciamo ampissima e potremmo forse stare ci sono sicuramente poi tra l'altro maggiori esperti in tal senso però questi quattro parametri introducono tra l'altro anche un altro aspetto che è quello anche della durata massima e quindi il timing della strategia ipotizziamo per esempio che la mia strategia mi dia un segnale di ingresso al giorno e nell'esempio citato appunto con 20 trade rappresenta circa un mese e che magari io possa mettere a rischio massimo ipotizzando qui quello che è il valore cassa che poi sarà anche diciamo appunto il valore di massimo drawdown che viene rappresentato dalla strategia con soli 10 trade vincenti il rendimento il famoso ritorno dell'investimento il rendimento totale della strategia mi dice che mi porta a casa il 70% di questo valore per cui è ampiamente in guadagno nonostante ci troviamo di fronte a una strategia con rischio rendimento uno a uno ripeto questo foglio proviene dal betting in effetti c'è una correlazione tra quella che nel betting viene chiamata quota e nel trading viene chiamato rischio rendimento il rapporto tra quota e rischio rendimento è esattamente in questi termini qui tra l'altro nel pacchettino che poi presenterò c'è tutta una guida un pdf che spiega meglio questo tipo di calcolo comunque il rischio più rendimento fratto rischio che ci dà il valore di quota infatti se io rischio per esempio 10 dollari contro un possibile profitto di 20 10 più 20 fratto 10 è facile calcolare che viene fuori un valore di 3 3 è il valore che poi andrà messo nel foglio come parametro quota che è correlato ovviamente alla strategia a rischio rendimento il masanero si prefigge appunto di calcolare il rischio monetario qui identificato come giocata ma nel foglio che poi vi passerò sono stati un po' anche tradotti questi termini che ovviamente provengono dal mondo del betting giocata è il rischio di fatto quindi mi dice che il rischio sul primo trade è di 150 e l'informazione vinta persa che come vedete nella colonna gialla si andrà popolando pian piano che io ottengo un risultato vincente o perdente il masanello esegue il calcolo successivo per cui inserendo nella cella vincente o perdente il masanello automaticamente ricalcolerà quello che è il rischio per il trade successivo fino a che cosa fino al raggiungimento dell'obiettivo l'obiettivo è fissato in 10 trade di vincenti e chiaramente 10 trade di vincenti li potrei magari fare tutti e 10 di fila subito oppure perso vinto perso vinto via via oppure magari 5 persi poi 5 vinti e altri 5 vinti diciamo ci sono tantissime possibilità ovvero 2 alla n 2 alla n vuol dire 2 alla 20 è un numero che supera il milione possibili sequenze di 3 divinti e 3 divinti ma il masenello risolve tutto il sistema diciamo di equazioni dando un calcolo preciso per il raggiungimento dell'obiettivo che in questo caso è rappresentato del 70% quindi un guadagno di circa 700 su un rischio massimo di 1000 e il contro qual è? il contro ovviamente che al verificarsi dell'undicesimo errore chiaramente avrò raggiunto il mio massimo drawdown ovvero avrò portato in perdita quello che è il valore massimo che ho messo a rischio per cui le informazioni sono ampiamente chiare dall'inizio so quanto sto rischiando so qual è il mio ritorno in termini di investimento so qual è la mia strategia so qual è la mia win percentage che devo raggiungere la mia abilità il masenello si limita semplicemente ad ottimizzare questi calcoli per restituire quello che è il rischio trade per trade ovviamente è chiarissimo e mi sembra evidente che il calcolo del trade successivo viene effettuato solo nel momento in cui ho l'esito di quello precedente per cui per tutte quelle strategie che hanno ingressi a mercato su più sottostanti o su più strumenti finanziari o magari sullo stesso strumento finanziario con diverse tecniche non è una una tecnica di calcolo che si adatta diciamo a strategie di quel tipo diciamo che il classico esempio è utilizzo un trading system con un segnale che tipicamente può essere raggiunto magari in tra day o magari nell'ambito di qualche giorno aspetto l'esito di questo primo segnale e poi diciamo ricalcolo il rischio per il trade successivo per cui in questo modello di trading si pressa veramente bene poi vedremo successivamente come questa tecnica per esempio si propone proprio sul grid management quello che un po' io ho definito anche grid management quindi ogni sequenza qui si vede per esempio degli esempi come procedono i dischi i dischi monetari su come viene eseguito e ovviamente al decimo trade vinto raggiungo un guadagno di quel tipo tutti i parametri sono personalizzabili si adattano perfettamente a tutte le metodologie che chiaramente ci si possono implementare quindi un po' qui la fantasia diciamo di ognuno di noi deve sviluppare diciamo quelle che sono le possibili applicazioni la cosa importante è che tutto l'algoritmo è di pubblico dominio lo è sempre stato per mia decisione e quindi ovviamente ci fossero anche dei programmatori o persone interessate a sviluppare qualcosa in tal senso possono contattarmi e riceveranno tutto gratuitamente tutto il modello di calcolo proprio dell'algoritmo in maniera gratuita per cui magari così se vogliono sviluppare qualcosa a beneficio anche della collettività e soprattutto di Tickmill che mi pare tra l'altro con Giuseppe porteremo avanti proprio uno di questi progetti per tutti i clienti Tickmill qui faccio vedere una cosa anche interessante perché al di là del discorso di avere il calcolo io posso anche in realtà crearmi una tabella di rischio precalcolata prima di partire e quindi questo modello in realtà è nato un po' se posso raccontarlo proprio come perché quando nacque nel mondo del betting c'erano i famosi quelli che scommettevano sulla roulette un po' gli appassionati del casino e mi dicevano all'epoca non c'erano gli smartphone non c'erano assolutamente dispositivi mobile diciamo di ultima generazione per cui nel 2002 nel 2003 dicevo ma io come posso crearmi uno schema da entro al casino e mi porto via una roba del genere e allora venne fuori questo schema che di fatto riepiloga proprio tutte le posizioni tutti diciamo i passi e partendo ovviamente da in questo esempio si vede un rischio di 100 partendo dal primo trade in alto a sinistra vedete 0-0 ovvero trade eseguiti 0 vinti 0 quindi praticamente io mi trovo nella situazione iniziale e dico ok ho cassa 100 ho diciamo il mio massimo rischio 100 devo rischiare 19,75 sul prossimo trade se il trade sarà vincente mi sposterò in diagonale in basso come vedete trade eseguiti 1 vinto 1 quindi in questa cella 1-1 dove la mia disponibilità monetaria sarà aumentata ovviamente perché il trade è vincente e il prossimo rischio come vedete è calcolato 17,55 se viceversa sarà perdente il primo trade mi sposto solo a destra quindi nella cella un trade eseguito 0,20 e quindi come vedete qui infatti la disponibilità monetaria è diminuita del valore 19,75 e il prossimo trade è ricalcolato con un rischio di 21,94 e via via ovviamente più i trade saranno non so se si vede anche la pennina perché forse non so se riesco assegnata sera no non c'è un pen un pendrive riuscivo a vedere il che ti spostavi tra l'altra ah il mouse si vede ok grazie 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 per cui praticamente pian piano che i trade saranno vincenti mi sposterò sempre più in diagonale verso il basso verso la zona verde dove poi la mia strategia mi precalcola proprio con un ritorno dell'investimento del 60% sul 100 calcolato che ovviamente guardate bene il rischio del massimo drawdown non è il mio conto perché non vogliamo bruciare conti qui ovviamente vogliamo definire un rischio massimo per una strategia monetaria magari che introduce anche un concetto di timing quindi di dire ok io ho il mio modello di trading voglio il mio massimo drawdown per il mese per la settimana per il giorno e questo valore qui porta avanti diciamo la mia strategia monetaria con un calcolo di questo tipo e quindi ovviamente il 60% sul 100 è un valore ma magari sul conto può rappresentare non solo 0,6% del conto se questo rischio ovviamente messo nella strategia del masanello è una una porzione del conto man mano che mi muovo verso il basso mi troverò nella zona di tra virgolette psicologicamente anche di confident tutto va bene sto vincendo sto vincendo e quindi diciamo a livello psicologico è molto facile la cosa interessante di questo schema è che mi permette anche di valutare eventualmente delle zone grigie o delle zone di alert o di pre alert perché seppur questo sia un valore ben chiaro e definito non è detto che io mi debba portare per forza a perderlo tutto perché magari avrò messo un valore un po' più alto e sinceramente se le cose si metton male la mia strategia mi porta ad avere dei drawdown quindi dei trade persi magari maggiori rispetto a quelli attesi dalla strategia stessa nulla vieta che per esempio in certi contesti possa fermare la mia operatività e questo schema permette proprio di vedere prima di partire prima di iniziare le zone per esempio di pre alert e quindi possono diventare parte integrante delle regole di dire ok se io raggiungo per esempio tre trade persi senza averne nemmeno uno vinto magari mi fermo e non è detto magari che debbo accusare la perdita totale dei cento poi è ovvio se cento è un valore che posso permettermi di perdere il mio conto magari è un po' più consistente diciamo posso anche portarla avanti però fondamentalmente posso guardare prima e valutare in termini anche proprio di azione e reazione cosa succede se quindi se mi trovo in questo contesto su questa diagonale come vedete qui per esempio l'ultima diagonale di fatto poi c'è sempre un rischio che è pari al valore residuo di cassa per cui chiaramente l'ultimo tentativo dove chiaramente o mi va bene fino in fondo oppure poi vado nella zona rossa che chiaramente rappresenta la perdita del max drawdown indicato nella strategia è una tabella utile può tornare utile soprattutto per alcuni modelli diciamo di gestione e soprattutto ripeto è tutto quantificabile e calcolabile prima di iniziare di entrare quindi i principali parametri abbiamo visto sono il capitale messo a disposizione o una sua frazione ma chiaramente anche il calcolo del massimo drawdown quindi del quanto devo rischiare può essere frutto per esempio di regole che sono a monte di position sizing quindi può essere per esempio il classico anti martingala rischio l'un per cento e il due per cento del mio conto possono essere magari anche altri modelli che si rifanno magari a una gestione tipo masaniello e qui entriamo in un concetto dove io definisco nidificato il masaniello perché di fatto il masaniello può essere anche nidificato ovvero una strategia monetaria calcolata con il masaniello può essere a sua volta anche la base per un calcolo di un masaniello che sta alle spalle l'esempio classico abbiamo visto prima 20 trade di cui me ne aspetto 10 vincenti può essere il modello mio magari operativo mensile se un trade più o meno è un'operazione che seguo ogni giorno per cui in un mese circa esuirò quei miei 20 trade posso avere un masaniello magari basato sui 12 mesi e quindi dire ok posso avere un modello di management che mi permette di dire 6 o 7 mesi in guadagno con questo modello 10 su 20 e quindi gestire il massimo throw down del masaniello che sta sotto direttamente con un'altra tecnica di calcolo frutta del masaniello o volendo come più classico che sia magari con altri modelli io diciamo la più diffusa ovviamente l'anti martingala però ognuno diciamo le sue decisioni la propensione al rischio e quindi anche il rischio per trade è chiaramente un altro parametro che è ben chiaro nella strategia di calcolo la strategia deve avere un rapporto di screndimento il massimo draw down che può essere quello storico o sostenibile anche a livello psicologico e soprattutto il concetto che spesso nei modelli di management non viene mai riportato ovvero il timing ovvero la mia funzione di payoff il mio ritorno dell'investimento dico ok bene io farò questi 23 nel prossimo mese ma poi se va come deve andare quanto guadagno cioè è una delle informazioni che spesso il trade il trader non si pone che dice ok applico l'antimartingala e vado avanti ma poi come è facile verificare ripeto soprattutto con modelli non diciamo ben chiari dove il vantaggio statistico diciamo non è così acclarato magari ci si trova di fronte al fatto di perdere denaro magari anche solo col 50% dei trade vincenti e la qualcosa ovviamente un po' scoccia che dice ma come ne ho vinti la metà mi aspetterei di essere in pari e invece purtroppo è facile verificare che anche con l'antimartingala si perde denaro e non solo non parliamo solo dei costi ovviamente per quanto gli swap nei conti ticmil siano bassi ma rappresentano comunque un costo ci sono anche altri costi quindi si è in svantaggio proprio matematico dall'applicare l'antimartingala questa è la funzione di payoff del masaniello come vedete a sinistra io sono andato qui attesi tentativi sono i trade attesi vincenti che sono circa il 50% dei tentativi come vedete sono andato anche ben oltre nel modello di calcolo fino a un miliardo su due miliardi di trade per cui possiamo dire all'infinito con quota o rischio rendimento 1 a 1 perché quota 2 rappresenta rischio rendimento 1 a 1 il ritorno dell'investimento come vedete cresce con una funzione logaritmica che porta praticamente ad avere un payoff del 200 ovvero di guadagnare il 100% dalla strategia e quindi il miglior modo mi verrebbe di dire per raddoppiare un capitale è utilizzare il masanello all'infinito quindi diciamo è un po' così una derivazione che ne viene fuori ma è interessante perché nessun modello di calcolo di management anche con operazioni ripeto rischio rendimento 1 a 1 con 50% di trade vincenti garantisce di avere dei guadagni ci sono tantissimi calcoli ma io sono sicuro e ho tra l'altro testato tutti i vari modelli a confronto di questo modello di calcolo nessuno massimizza il payoff non so se ci sono domande magari io farei una breve sosta perché poi passiamo all'argomento magari non so Giuseppe se ci sono degli interventi se tu mi puoi assistere aspettavo appunto che finissi la prima presentazione per farti alcune domande cioè più che altro girarti la domanda di Roberto allora Roberto mi chiede riferite un po' alla tabella che hai fatto vedere prima in questo caso puoi fare massimo 6 loss consecutivi e poi fa un po' un'obiezione sul discorso del betting quindi facendo un parallelo con il betting che il problema secondo lui come avviene nel betting sono le perdite consecutive poi questa è un po' la prima domanda beh è un problema del betting ma anche nel trading è chiaro che se io ho una strategia di trading dove mi aspetto delle cose e viceversa ottengo un certo numero di perdite consecutive il problema io penso che sia equiparabile nel senso nel betting chiaramente la valutazione di chi piazza una scommessa infatti spesso si fa questo parallelismo tra betting e trading ma fondamentalmente a livello matematico non è che cambia granché perché chi fa la scommessa esegue una valutazione magari anche statistica e io ero uno tra quelli che diciamo facevo delle scommesse frutto proprio di statistiche e con l'aiuto e col supporto delle statistiche chiaramente potevo anche valutare quelle che erano il numero massimo di perdite consecutive così come il trader algoritmico o anche colui che abbia una strategia di trading consolidata sono informazioni che valuta quindi il parallelo secondo me è molto calzante tra betting e trading per quanto io capisco che chi fa trading e soprattutto chi fa investimenti che è una cosa un po' diversa da chi fa il trader viene un po' così da sorcere il naso perché che non amano diciamo questo parallelismo ma vi posso garantire che in termini matematici non cambia nulla in termini matematici è esattamente lo stesso discorso così come posso avere un certo numero di perdite consecutive nelle scommesse le posso avere anche nel trading perfetto non cambia poi un'altra domanda di Donato quindi non si può fare rischio rendimento 1 a 2 o 1 a 3 assolutamente sì assolutamente si può io ho portato degli esempi il calcolo che poi viene dato nel pacchettino che è semplicemente per rapportare il valore quota che è un'espressione il cosiddetto multiplier il moltiplicatore che viene utilizzato nelle scommesse per rapportarlo a quello che è rischio rendimento ovviamente io per fare questo calcolo devo definire il rischio e devo definire il rendimento cioè ovvero il mio stop loss e il mio take profit nel momento in cui ho il take profit e il stop loss il calcolo l'ho citato prima è rischio più rendimento il tutto fratto rischio e ci troviamo quello che è il valore di moltiplicatore della quota praticamente quindi 1 a 2 un rischio rendimento 1 a 2 l'ho citato prima per esempio 10 pip di rischio 20 pip di guadagno 10 più 20 30 fratto 10 che è il rischio ci dà un moltiplicatore di 3 che di fatto è il parametro che poi viene messo nella strategia di calcolo però ripeto anch'io sto lavorando un foglio excel magari più moderno tra virgolette soprattutto più idoneo al mondo del trading per cui nel nuovo foglio excel che sto realizzando utilizzerò una terminologia propria del trading quindi con i parametri di rischio rendimento perfetto anche negative possono anche essere rischio 2 rendimento 1 perché per esempio ci sono alcune tecniche che utilizzano magari con un rischio maggiore del rendimento sono i cosiddetti mordi e fuggi soprattutto gli scalper utilizzano questa tecnica di avere magari un ritorno molto più piccolo del rischio si poi la maggior parte dei trader opera in questo modo con take stretti e magari poi stop molto larghi allora poi ci sono i complementi da parte di alcuni matematici come Marco che dice che si è collegato adesso può venire molto interessante soprattutto per un matematico come sottoscritto sì la registrazione Marco poi sarà data anche Antonio ti fa i complimenti ci sono Roberto un altro Roberto mi scrive io ho guardato il masaniello sul roulette sulla roulette ho visto che se capita di vedere il 50% dei colpi tra perdenti e vincenti fa perdere tutto il capitale è logico che su una roulette è solo quel caso perché se si gioca rosso e nero uno di questi che prevale porta con il masaniello utili con il trading lo vediamo lo vediamo ho capito a cosa si riferisce a quello che è la seconda parte della presentazione e poi soprattutto perché è interessante perché vedremo proprio degli esempi pratici Filippo chiede poi tra l'altro come calcolare la sites nel masaniello è un foglio Excel è un calcolatore di fatto il masaniello è un algoritmo che ti restituisce immaginate una calcolatrice dove si schiaccia un pulsante lui ti dice quanto rischiare avendo prefissati quei quattro parametri che sono ovviamente propri della strategia quindi una volta che è uscito l'importo da rischiare è il trader che si deve andare un po' a vedere poi la sites da mettere in gioco allora ovviamente dipende dal sottostante come Giuseppe tu puoi immaginare se io devo rischiare 20 dollari o 20 euro su 10 pip è un discorso però aprirò una certa position size cioè un size in termini di lotti di micro lotti diciamo su MetaTrader chiaramente un conto diverso e se devo rischiarlo se non so sono 50 pip per cui o magari piuttosto che euro dollaro rispetto magari al DAX dove il valore per punto chiaramente è ben diverso per cui dipende dal sottostante ci sono dei siti credo anche su Pickmill ci sono dei calcolatori di rischio è molto facile si può fare il calcolo il calcolo del rischio monetario a sites all'apertura di sites tra l'altro il calcolatore del masanello può proprio già essere stesso impostato su lotti e micro lotti io stesso utilizzo delle tecniche dove già utilizzo tra l'altro proprio per via degli arrotonnamenti che purtroppo sappiamo sulla MetaTrader il valore più piccolo è il micro lotto per cui già col micro lotto ci potrebbero essere dei casi dove magari la strategia ti dà no no 0015 per esempio chiaramente 0015 deve essere arrotondato a 001 o a 002 per cui per evitare anche questa problematica ci sono degli esempi o comunque dei modelli di calcolo e ripeto questo poi magari soprattutto per i programmatori o per i matematici interessati posso dare maggiori informazioni c'è la possibilità di avere anche un calcolo con un arrotondamento al micro lotto per cui la strategia diciamo può essere anche impostata direttamente con un valore in lotti o micro lotti ok ok Martino io direi che purtroppo dobbiamo un po' accelerare per non andare lungo le faccio dopo se c'è tempo ci facciamo va bene vediamo questa parte che è una parte molto importante che tra l'altro ci porterà anche degli esempi pratici dove il calcolo del masaniello del management diventa proprio parte integrante della strategia per esempio di un sottostante quello che io chiamo masaniello differenziale e che poi di fatto si rifà un po' a quella che è la teoria della random walk non so se sicuramente i matematici l'avranno già vista e studiata la random walk teoria soprattutto applicata ai mercati finanziari è quella teoria che dice che un passo un percorso un movimento di un sottostante seguente a un passo che è appena avvenuto è totalmente randomico per cui come sappiamo nessuna certezza sul futuro e una teoria tra l'altro di efficienza dei mercati soprattutto su alcuni sottostanti e parlo per esempio prevalentemente sul forex questo è vero e tra l'altro ne vedremo come è vero perché ho dei dati anche da dimostrare per cui praticamente c'è un percorso di random walk ma di fatto la random walk è proprio quello che ci viene a pennello nel calcolo del masaniello qui ci sono degli esempi euro dollaro time frame h1 che cosa è successo con la candela successiva alla candela precedente semplicemente mettendo a confronto gli ultimi cinque anni di movimento di euro dollaro con il cambiamento percentuale di una candela rispetto a quella che la precede come vedete il range dei movimenti è statisticamente abbastanza equilibrato cioè non ci sono sbilanciamenti da una parte né dall'altra cioè vuol dire che una candela negativa può successivamente essere positiva può essere negativa negativa e come vedete i quattro lati che racchiudono tra l'altro da uno zero cinquanta per cento è abbastanza equilibrato per cui anche la distribuzione gaussiana degli incrementi come vedete rientra in quella che è la statistica per cui possiamo ipotizzare come una distribuzione gaussiana di tipo tridimensionale anche su h4 time frame h4 il range ovviamente delle candele h4 si estende maggiormente come sappiamo in questo caso raggiunge quasi dei livelli pari all'un per cento ma statisticamente non ci sono sbilanciamenti da una parte né dall'altra per cui ci sono alcuni strumenti finanziari come per esempio l'euro dollaro che chiaramente per diciamo nomea è quello più liquido molto più diciamo liquido e quindi soprattutto che si presta molto bene alla teoria della run walk anche su daily vedete che il range daily ovviamente si estende oltre l'un per cento però sostanzialmente non c'è nessun tipo di sbilanciamento né da una parte né dall'altra e soprattutto qui quello che vediamo è è proprio messa in confronto quello che è il passo successivo rispetto al passo precedente ovvero il cosiddetto mean reverting o trend following cioè nella parte blu sono le occorrenze ovvero le ricorrenze statistiche nella parte arancione è il calcolo teorico per cui in termini teorici io mi sarei dovuto aspettare degli histogrammi molto prossimi ai valori arancione però come vedete dopo un passo fatto in una direzione è il secondo passo cambia per cui inverte e sostanzialmente questo succede per esempio nel forex euro dollaro dollaro yen sono degli esempi cosa un po' diversa magari sui commodity commodity e soprattutto sul VTI si vede come ci sia una bassa ricorrenza di inversione quindi una specie di trend following è un sottostante molto più propenso alla continuazione fino a un certo numero di passi e qui per passo io intendo proprio un valore di range diciamo di pip diciamo o di punti del sottostante per cui inverte solo magari statisticamente dopo un certo numero di passi queste statistiche sono facilmente replicabili e io consiglio di fare questo tipo di valutazioni perché ci dà la vera natura dei sottostanti cioè ci sono dei sottostanti che sono molto più prossimi al mi reverting e il forex è sicuramente questo per eccellenza o almeno alcune delle valute del forex perché sappiamo che soprattutto le oceani che sono correlate molto alle commodity quindi Audi CAD e NZD però per esempio sostanzialmente quelli che sono le quattro major quindi euro dollaro sterlina e yen sono molto mi reverting diverso è per alcuni altri sottostanti non ho portato altri esempi per andare oltre soprattutto per non andare lunghi quello che noi possiamo fare è ipotizzare di avere una passeggiata casuale di un sottostante quindi applicare quello che è il modello di calcolo del Masaniello direttamente al sottostante lavorando le due direzioni lavorando quindi sia una direzione long sia una direzione short e come viene espresso da questa curva campana il trader non dovrà fare altro che fare delle valutazioni di breakout o di min reverting ad esempio partendo da un punto zero che chiaramente poi potrà essere definito da altre tecniche da altre strategie di risk management quindi per esempio la strategia che non so utilizza le bande di Bollinger gli estremi utilizza le tecniche dei minimi dei massimi utilizza l'RSI magari per iper comprato iper venduto ci sono tantissime tecniche di risk management che ovviamente non è questa la sede di riprendere ma il trader quello che può fare è fare una valutazione di dire ok per me questo sottostante resterà in un certo trading range che è rappresentato esattamente dalla curva campana di colore verde quindi il prezzo si muoverà all'interno di un certo range che vado a definire o viceversa andrà a breakout verso la campana rossa quindi il cosiddetto breakout che magari può essere non inizialmente definito quindi un breakout per esempio di una zona laterale può essere long ma può essere anche un breakout short quindi quante volte magari no abbiamo visto delle zone di congestione poi magari rompere da una parte o magari di fare delle finte drutture e poi andare dall'altra parte quindi il trader con questa tecnica di calcolo che definisco masanello differenziale deve fare una valutazione solo di mi reverting o di breakout ovviamente tutte le zone sono totalmente definibili e i range e chiaramente i punti del grafico qui si vede un esempio su euro dollaro ho voluto riportare questo esempio perché più volte proprio nella training room con Renato lo dicevo euro dollaro se vi ricordate dopo marzo che c'è stato un po' le montagne russe febbraio marzo c'è stato un po' di montagne russe ad aprile praticamente ha congestionato in una zona laterale e si vedeva perfettamente tracciando il valore del minimo del 2019 che era uno zero ottantotto evidenziato dalla linea blu come il prezzo stava giocando tra virgolette con più o meno cento pip sopra cento pip sotto praticamente su questo prezzo qui no è chiaro che c'era ad attendersi una esplosione di volatilità da una parte o dall'altra c'era chiaramente chi diceva long chi diceva short a ognuno la sua chiaramente non voglio entrare nel merito però con una tecnica di utilizzo del masanello indifferenziale io posso dire questo al mio entry point quindi l'uno zero ottantotto utilizzo un range che in questo caso ho simulato essere di cinquanta pip ma ovviamente poteva essere definito anche a piacere ripeto è un esempio che sto portando ed entrare con una tecnica di calcolo che vada sia long che short sfruttando la possibilità di avere un breakout quindi dire dopo 20 tentativi di movimento su cinquanta pip o dopo 10 tentativi di movimenti da cinquanta pip l'importante è che il prezzo non ritorni esattamente su questo livello di uno zero ottantotto e nel qual caso porto a casa un vantaggio dal calcolo monetario qui si vede un esempio per esempio su otto tentativi dove qui sono dei parametri puramente di esempio e quindi chiaramente non prendete come vedete che sono ottimizzati proprio su valore di lotto micro lotto che possono essere adattati arrotondati diciamo al secondo decimale per la metatelader nel caso del breakout chiaramente la strategia mi dice se il movimento va short e quindi passo dal punto zero zero che è il punto di origine tu colore rosso continua ad andare short quindi cavalca il breakout e se va short continua ad incrementare la posizione fino ad avere un vantaggio per esempio su otto tentativi il vantaggio chiaramente è espresso da un breakout vuol dire praticamente non il ritorno sul 4 a 4 il ritorno come vedete 4 a 4 vuol dire che dopo quattro movimenti mi ritroverei esattamente sul punto di partenza per cui avere un'estensione di range verso un lato short o long che sia ti porta ad avere un guadagno ma la cosa importante di questa tabella è che anche in quest'ottica io posso definire prima anche delle zone grigie come le abbiamo definite prima nella tabella di calcolo precedente dove magari la mia strategia cerca il breakout long o short che sia ma magari se dovesse dopo 6 tentativi trovarsi nella zona 3 3 quindi praticamente di nuovo sul valore originale del sottostante il sistema potrebbe anche essere interrotto perché come vedete di un rischio 1 e 86 totale che chiaramente per esempio su 50 pip avrà un suo controvalore in dollari io qui la strategia di calcolo mi dice guarda l'ultimo tentativo perché ovviamente 6 6 mi porta 3 3 mi porta ad avere l'ultimo tentativo vincente o perdente dovrei rischiare quasi il 60% del valore di max throwdown per cui io potrei dire anche guarda sai che c'è dopo 6 tentativi se non è andato a breakout fermati e quindi come è facile calcolare avrò perso esattamente questi valori che sono rappresentati da 0 10 0 16 e 0 32 che sono praticamente 0 58 che in termini monetari ripeto poi convertiti con l'euro dollaro saranno un certo controvalore su 50 pip ma quello che è interessante capire è che se la strategia va in guadagno e ripeto questa qui è semplicemente uno dei milioni di esempi che se ne possono fare avrebbe portato un ritorno di 0 10 0 20 0 24 0 16 che rappresenta un totale di 0 70 quindi la strategia stessa potrebbe avere un ritorno di 0 70 contro un rischio calcolato di 0 58 che è di per sé un valore maggiore dell'uno a uno è chiaro che dove entrare dove applicare dove poter implementare queste tecniche è totalmente diciamo lasciato discrezionalità ai trader quindi ognuno può decidere di poterlo applicare per esempio su tecniche di congestione come abbiamo visto sull'euro dollaro ad aprile piuttosto che magari di non so utilizzo delle bande di bollinger su valori estremi o su valori medi magari utilizzando delle medie mobili utilizzando dell'RSI ci sono chiaramente in letteratura tantissimi esempi di possibilità di inversione o di breakout per cui ci tenevo così a riportare solo un esempio ma di queste tabelle se ne possono costruire veramente tantissime perché di fatto avete visto nel grafico di prima non c'è il limite alla potenza di calcolo del matanero possiamo espanderlo anche su migliaia di trade questo è un altro esempio invece del mid reverting anche qui in questo caso abbiamo una tabella precalcolata dove il ritorno sul valore medio quindi il mid reverting chiaramente qui in questo caso se va short come vedete viene invertito il colore verde per cui lui cerca l'ingresso contrariano quindi cerca un ingresso long il colore rappresenta la direzione verde long e rosso short quindi se va long lui cerca short se va short cerca long quindi un po' il concetto del mid reverting e su dieci tentativi se noi abbiamo almeno tre movimenti di range long e tre movimenti short di fatto ci portiamo a casa un 12% di ritorno ripeto è un esempio che volevo portare di calcolo ma anche qui ne possiamo costruire a piacere quanti ne vogliamo quindi con modelli anche e tabelle molto più ampie o più ristrette magari io mi fermerei ancora prima di far vedere un'ultima cosa poi dimmi tu se ci sono ancora delle domande o se su questa seconda parte ci sono diciamo dei quesiti perché allora ci sei? sì sì ti sto ascoltando stavo facendo un po' stavo filtrando le domande perché ce ne sono diverse Gianluca dice c'è Juventus Napoli ok tra un po' da ragazzi tra un po' calma si vuole comunque anche una mente matematica comunque non è facilissimo magari questo poi il webinar rivedete con calma e poi ne cercheremo di fare altre anche con esempi comunque sull'operatività in modo tale sapete io quando comunque faccio le webinar non mi limito soltanto al webinar finisce lì e poi basta sono il primo ad applicarlo quindi poi sapete io alla chat poi Giuseppe perdonami c'è anche un gruppo telegram c'hai una pagina facebook per cui tutti coloro che sono interessati anzi puoi dare i riferimenti del gruppo telegram e della pagina perché io sono presente in questi gruppi e possono taggarmi possono citarmi possono scrivermi tutti coloro che hanno un interesse basta allora sì su telegram si chiama working forex quindi magari scrivo tu in chat perché io non ho la possibilità di scriverlo però no la maggior parte che comunque qui io me la scrivo adesso sì magari già conosco e poi sapete che farò comunque degli studi in merito quindi creeremo proprio anche dei sistemi con Salvatore lo ha già allarmato sul tutto domanda di Maurizio nell'ultima tabella si profit del 12% ma il max drawdown è la cassa ovviamente sì chiaramente il valore che tu metti in questo caso è un lotto e 14 chiaramente molto speculativo e il mi reverting è molto più speculativo perché a differenza della tecnica breakout che abbiamo visto prima può avere anche un rischio rendimento maggiore dell'uno a uno il mi reverting per la sua tipologia diciamo almeno su questo esempio perché è molto speculativo 3 su 10 vuol dire che su 10 movimenti devo averne tra virgolette degli sbilanciamenti solo in una direzione cioè ipotizzando di avere 20 pip per esempio io devo avere non so 7 volte 20 pip e senza nessun ritracciamento quindi poi qui entra in gioco il discorso anche degli studi su dove entrare su dove applicare questi modelli di calcolo è altamente speculativo chiaramente il ritorno è il 12% e quindi è un rischio rendimento inferiore dell'uno a uno però se ne possono costruire se ne possono costruire ovviamente anche altri con rischio rendimento maggiore se io qui avessi messo 4 su 10 per esempio 4 su 10 è chiaramente più rischioso ma un ritorno esattamente maggiore per cui considerate che un po' come succede nella moneta il rischio rendimento o meglio il ritorno dell'investimento è esattamente inversamente proporzionale alla probabilità di esito cioè se io ho una moneta è equo nel momento in cui io guadagno il doppio di quello che rischio per cui ho una probabilità del 50% e mi aspetto un ritorno del doppio se io ho una strategia che mi dà un vantaggio per esempio all'80% non posso pensare di avere un ritorno maggiore dell'una a uno perché all'80% avere l'una a uno vuol dire spaccare poi il mercato cioè praticamente non sarei qui perdonami Giuseppe ma sarei altrove è chiaro che se io ho una strategia che vince l'80% magari avrò un ritorno dell'investimento magari del 25% del 30% per cui molto minore chiaramente al rischio sono le tipiche strategie dove si ha un win rate altissimo che va anche 85% lo sappiamo tutti cioè vanno a puntare su piccoli profitti senza lo stop loss poi capita quel trade che ti brucia il conto quindi è comunque altamente speculativo perché se questo per esempio rappresenta magari il nostro 10% del capitale magari di un capitale non eccessivamente grosso perché poi non abbiamo parlato ma chiaramente nel money management un conto è gestire un capitale piccolo un conto è gestire capitali importanti per cui tutte le regole ovviamente vanno chiarite anche in base alla dimensione del conto alla propensione al rischio a quali sottostanti si preferisce operare al modello operativo automatico discrezionale per cui ci sono delle regole che vanno chiaramente richiederebbero forse due giorni di trattazione però diciamo se io per esempio rischio il 10% di un conto magari piccolo come può essere quello di un trader che inizia il 12% rappresenta l'1% del proprio conto perché praticamente per esempio su base mensile non è assolutamente male avere la possibilità di avere un ritorno dell'1% al mese perfetto purtroppo Massimo noi siamo quasi in chiusura tu vorrei far vedere l'ultima cosa io so che ci sono altre domande no c'era c'era solo un altro aspetto che volevo ovviamente citare perché siamo in tema un po' così della post pandemia quindi c'è un proverbio cinese che mi viene proprio interessante diciamo da citare se si deve giocare con la teoria dei giochi di John Nash l'abbiamo vista tre cose devono essere chiare le regole del gioco la posta e la durata che è un aspetto che chiaramente spesso ci si dimentica perfetto assolutamente mi dispiace per le altre domande che non sono riuscito a girare a Massimo poi magari le giro via email e quando va a tempo magari vi risponde però sicuramente magari sul canale sul canale telegram sul gruppo facebook sicuramente possiamo interagire e posso rispondere a tutte le altre domande faremo degli studi in merito sicuramente Massimo ci prendiamo l'impegno di fare un altro webinar con magari dove abbiamo già una strategia che metteremo in campo e andremo a vedere un po' tutte le possibili diciamo qualcosa di più operativo perché mi rendo conto che purtroppo il trader che approccia diciamo qui è un modello di calcolo e ripeto è un modello di calcolo che è interessante perché non vuole essere né una martingala né un antimartingala è un modello di calcolo molto specifico molto particolare bisogna bene entrare nelle suoi meandri per capirlo perché ripeto ha delle potenzialità di vantaggio utilizzato in certi modi chiaramente ha dei contro che bisogna assolutamente poi diciamo evitare per cui bisogna conoscerlo bene prima di entrare al mercato però la cosa bella che dico sempre è che tutte le regole sono chiare dall'inizio so quanto rischio so quanto dura so qual è la mia aspettativa di vincita conosco la mia strategia è chiaro che se poi le cose non vanno secondo quello che è il proprio modello di operativo chiaramente lì c'è qualcosa che forse bisogna rivedere al di là del discorso money management esatto sì allora Massimo io ci siamo dimenticati di dire ma in realtà no perché poi mi invieremo un'email con tutti i dettagli quindi vi dirò anche il canale telegram e dove reperire il foglio di calcolo nei prossimi giorni con la registrazione anche quindi non vi preoccupate tutti gli iscritti riceveranno questi mail anche le slide saranno disponibili slide registrazione foglio di calcolo che avete visto tra l'altro c'è anche una guida un pdf che ho realizzato proprio per spiegare bene la tecnologia dei parametri e più di questo non possiamo pretendere altro grandissimo Massimo io vi ringrazio per grazie numerosissimi fioccono ovviamente i complimenti per te Massimo quindi io vi do appuntamento al prossimo webinar che faremo con Massimo ma decideremo la data nei prossimi giorni quindi rimaniamo un po' tutti quanti connessi con i webinar magari promesso entreremo un po' più nel merito e metteremo un po' più le mani in passa sul trading diciamo quindi proprio come modello operativo ottimo ottimo Massimo grazie e vi auguro a tutti una buona serata grazie a te buona serata e forza Napoli ovviamente ciao ciao Giuseppe ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti